ed eccoci qua cari amici ancora multi tour operativo prima giornata oggi ufficiale di ricerca e qua niente possiamo vedere una una lada 2104 guardate qua carissimi amici io insomma queste auto di sicuro nel mio trentino non le ho viste è un 1300 è bella insomma molto vintage e va presa catturata al volo anche questa ragazzi siamo tutti qua apposta siamo partiti dall'italia per catturare veicoli vintage dunque carissimi amici portiamo a casa anche questa questa lada insomma la dedichiamo qua all'amico patrizio castelli che so che piacciono queste queste auto un po un po dell'est un po trabant un po un po d'accia niente cari amici qua il marvin vi saluta la caccia continua